ciao scusate le luci ma sono le sei e un quarto del mattino quindi cercherò di fare in fretta perché tra poco devo partire per il lavoro allora parliamo oggi dell'ipersensorialità io ho due bambini di tre che sono iper sensoriali che sono derek e colin uno è un autismo complesso con veramente gravi complessità che rendono la gestione più difficile ma soprattutto che va seguita di più colin che ha un grado più lieve diciamo che riesce in tantissime cose a autogestirsi però ci sono delle situazioni in cui è più in difficoltà addirittura del bambino che è più grave quindi colin a volte ha molte più difficoltà sensoriali di derek allora a livello di ipersensorialità abbiamo problemi su tutti i sensi quindi questo sarà solo un primo video di altri per cercare di aiutarvi o comunque darvi delle idee su come superare i vari step allora per esempio a livello tattile adesso vi faccio vedere come abbiamo fatto per a livello proprio di toccare il bambino che non si facevano neanche sfiorare le maestre hanno pianto la prima volta che sono riuscite ad abbracciare colin quindi più lieve senza che lui si rigidisse o avesse paura allora la psicologa e poi noi a casa abbiamo personalizzato ci diceva di fare delle manipolazioni profonde toccando in maniera profonda il corpo tutto il corpo in modo che in qualche modo autoregolassero questa sensazione e poi pian pianino abbiamo alleggerito il tocco fino alla carezza con colin siamo riusciti a utilizzare la canzoncina cantando whisky ragnetto whisky ragnetto sale la grondaia scusate io non sono molto brava a cantare eccetera e poi facevo delle cose un po' spiritose la pioggia scende giù ed era molto profonda ok quando facevo così il bambino è sempre più leggero invece con Derek non potevo cantare parlavo whisky e ragnetto sale la montagna sale la montagna esatto questo lo facevo tutti i giorni più volte al giorno ed è servito oggi riesco a toccarli e abbracciarli senza problemi spero che possa esservi utile come esempio questo è un video è un video è un video